Buona serata e ben ritrovati in diretta anche dalla redazione Veneto con le informazioni che stasera vedono ancora in primo piano la questione delle riaperture dello scontro che persiste tra le stesse regioni tra cui il Veneto e il governo rispetto al coprifuoco e al tema del trasporto scolastico delle elezioni in presenza. Ne ha parlato nuovamente oggi in conferenza stampa il governatore Luca Zai. Andiamo ad ascoltare le sue parole. L'R con T è 0,71, l'incidenza è 126,8, il tasso dell'occupazione di terapia intensiva è 22%, la soglia critica è 30%, il tasso dell'occupazione dell'area non critica è 20%, la soglia è 40%. Quindi noi siamo di fatto, a meno che non cada un meteorite, siamo in zona gialla. Questo per dire che lo eravamo anche la scorsa settimana in zona gialla, da un punto di vista di parametri. Di fatto poi con il nuovo decreto noi saremo in zona gialla e quindi scatteranno tutta una serie di misure che avete conosciuto in queste ultime ore, che sono quelle dell'apertura dei ristoranti all'aperto, che sono quelle dell'apertura del cinema, il teatro e quant'altro. Sul nuovo decreto non vi nego che noi qualche perplessità ce l'abbiamo. Spero vivamente, guardate, io ho difeso questa posizione, mi permetto di dire, di astensione, penso che sia una posizione di responsabilità, anche perché alla fine si va a interpretare un'istanza che arriva da tutte le regioni italiane, non sto parlando di istanza politica, sto parlando di linee guida che noi abbiamo presentato, che sono nate negli uffici della regione Veneto, le abbiamo presentate in nome per conto delle regioni italiane, e quindi questa è un'istanza di una visione di riapertura, che ripeto, è un'apertura che noi non facciamo, non è un debloccage, non è una vernice, è sostanzialmente aprire le ultime attività che non sono aperte. Quindi se ci sia modo assolutamente di affrontare una revisione, beh insomma un tagliando lo si può fare, no? Un tagliando potrebbe essere una, come si può dire, una situazione di buon senso, no? E diciamo che tutti possono cambiare idea. E queste erano dunque le parole del governatore Zaia, proprio sul tema del coprifuoco, è intervenuta anche l'immunologa dell'Università di Pado, Vanto, nella Viola, che dice che è una decisione che ha dal sapore moralistico più che scientifico, ha dichiarato l'immunologa. Condivido le scelte del governo, riaperture graduali basate su priorità, la scuola è il rischio limitato, locali all'aperto, non sono però d'accordo sulla decisione di mantenere il coprifuoco alle 22. Spostarlo solo di un'ora sarebbe stato importantissimo per i ristoratori, che avrebbero potuto contare su due turni di cena, sottolinea la scienziata. A fronte di un vantaggio, tutto da discutere e dimostrare in termini di contenimento del contagio. Il danno per le categorie coinvolte, certo, è pesante. A proposito di vaccinazioni, invece, vediamo la situazione legata anche al Veneto con i dati nazionali che vedono salire le somministrazioni a 16.414.000 per un totale di quasi 5 milioni di italiani immunizzati. Il Veneto attualmente ha somministrato 1.397.000 dosi sul 1.619.000 a disposizione e la percentuale di utilizzo è dell'86,2%. La popolazione oltre 80enne con almeno una dose del 93,1%, quella nella fascia età compresa tra 70 e 79 tocca il 50,4%. Nelle ultime ore i dati relativi alla regione sul fronte contagio, altri 1.060 casi di positività con 24 decessi. Il rapporto però tra contagio e tamponi è del 2,82%. 1.425 sono le persone ancora ricoverate in ospedale, nelle terapie intensive sono 229, entrambi i dati in decrescita. C'è poi tutto il fronte sanitario della gestione post-lockdown e anche della situazione all'interno delle famiglie. In provincia di Belluno, per esempio, sono aumentati i casi di violenza contro le donne a seguito del lockdown che ha trasformato le mura di casa in una prigione. Ce ne parla Alessia Trentin. Nel 2020 sono state 159 le donne che hanno chiesto aiuto al centro antiviolenza di Belluno, un aumento del 238% rispetto al 2005, anno di fondazione del servizio. I dati diffusi da Belluno Donna fotografano un fenomeno in crescita nel 2020, quando il lockdown ha reso le mura di casa una gabbia di dolore e di violenza per molte donne. E così lo scorso anno gli interventi a sostegno delle donne sono aumentati del 578%, di quasi sei volte rispetto al 2005. Questo ha spinto l'ente provincia a fare la propria parte, stanziando un fondo straordinario di 10.000 euro. Ne parla il consigliere provinciale Dario Scopelli. Insieme al consigliere Vendramini abbiamo pensato di dare un contributo di 10.000 euro per l'uno donna. Una piccola cifra forse, ma dal significato molto profondo. idea da subito condivisa dall'intero consiglio provinciale. E proporremo inoltre, nella prossima assemblea dei sindaci, il tema della violenza contro le donne, con l'obiettivo di sensibilizzare le comunità locali. Perché intervenire economicamente per garantire un sostegno a un'associazione che da anni si occupa di donne vittime di violenza è un dovere, ma è anche la capacità di capire che nel nostro territorio c'è la presenza di questo problema, che è molto grave e il Covid ha davvero molto acuito. Un sostegno invece al personale sanitario impegnato nel contrasto alla pandemia arriva anche da Papa Francesco. È il caso di una telefonata arrivata nei giorni scorsi a Don Marco Galante, cappellano degli ospedali riuniti di Padova e Schiavonia, impegnato da novembre nel reparto Covid a sostenere incoraggiati i malati nelle sue visite ai reparti. Qualche tempo fa Don Marco ha scritto una lettera a Papa Francesco per condividere la preghiera e il sostegno che i malati hanno trovato nel momento di sofferenza. E il Pontefice ha risposto, è successo mercoledì mattina, raccontato Don Marco, ero in canonica, avevo appena terminato un collegamento di formazione con un gruppo di preti, ho sentito vibrare il telefono, ho visto la scritta sconosciuto, ha risposto e ha parlato appunto con Papa Francesco che ha testimoniato la vicinanza al personale sanitario e agli stessi parroci impegnati sul fronte Covid. Un'altra situazione invece molto complicata e difficile in questo periodo, il caso delle persone che si tolgono la vita. In provincia di Treviso si è deciso all'interno dell'azienda sanitaria di mettere a disposizione una task force per sostenere i parenti di coloro che appunto hanno tentato il gesto estremo. A Treviso è in fase di costituzione un'equip di sostegno psicologico che si rivolge ai sopravvissuti di morti improvvise, prevalentemente suicidi. È infatti preoccupante il numero di individui che si sono tolti la vita nel 2020, pari a 56, vale a dire uno alla settimana. Ne ha parlato ai nostri microfoni il dottor Leonardo Meneghetti, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda sanitaria trevigiana. La cosa principale da dire è che questa è un'iniziativa che è stata in un qualche modo ideata e voluta fortemente dal tavolo provinciale della provincia di Treviso di prevenzione dei gesti suicidari, che è un tavolo attorno al quale siedono diverse enti e diverse associazioni, che vige sul territorio, che opera sul territorio del 2015. All'interno del lavoro di riflessione sulla prevenzione del suicidio di questo tavolo è nata l'idea di questa iniziativa, di questo corso, che di per sé è anche un'iniziativa abbastanza rara e forse in qualche modo unica in Italia in questo momento, che ha lo scopo di formare delle persone volontarie di varia professionalità che avranno il compito di mettere in atto interventi il più tempestivi possibili, brevi, nei confronti dei sopravvissuti da morti improvvise, traumatiche, soprattutto il suicidio, ma anche incidenti stradali, omicidio o per altri motivi. Ora andiamo come di consueto a farci raccontare alcune delle anticipazioni che troverete domani in edicola sulle pagine del Gazzettino. Con noi Ario Gervasutti, buonasera. Buonasera, buonasera a voi i vostri telespettatori. Domani con il Gazzettino troverete ovviamente degli approfondimenti su quello che al momento sembra davvero profilarsi come un vero e proprio scontro istituzionale tra le regioni da una parte e il governo dall'altra. Oggetto del contendere è il decreto Draghi, decreto che sostanzialmente ha due vulnus secondo le regioni. Regioni, meglio precisare, di tutti i colori politici. Quindi da destra a sinistra i governatori contestano che cose? Principalmente due cose. La prima, la riapertura delle scuole al 100%. I governatori tutti dicono che in questo momento non è sostenibile perché è impossibile mantenere le distanze sia all'interno delle classi, perché le classi sono troppo numerose, le classi quelle che ormai sono state formate negli anni, sono troppo numerose rispetto alle distanze che devono essere tenute. Secondo, soprattutto per quanto riguarda i mezzi di trasporto, perché i trasporti pubblici ovviamente non sono adeguati, dovrebbero sostanzialmente quasi raddoppiare il numero di autobus, cosa che è impossibile fare nel giro di pochi giorni. Quindi questo è il primo punto di contestazione. Secondo punto di contestazione è quello dell'orario del coprifuoco. Orario del coprifuoco che il governo ha mantenuto alle 22, ignorando quelle che erano le richieste delle regioni e soprattutto di molti imprenditori e commercianti, che dicono se riapriamo i ristoranti, non possiamo alla sera, cosa che è permessa dal decreto, non possiamo pretendere che la gente venga a cenare alle 7 di sera per poi essere a casa entro le 10. Quindi chiedevano di spostare l'orario alle 11, cosa che il governo non ha accettato. E qui si apre una partita, perché questa richiesta non aveva il veto degli scienziati, quindi è una decisione prettamente politica. Qui si instaura ovviamente una discussione tra la Lega, da una parte che si è fatta portavoce di questa istanza e gli altri partiti della coalizione dall'altra. Al momento la scelta di Draghi è stata quella di mantenere il punto e non allargare, non spostare di un'ora il coprifuoco, cosa che secondo molti scienziati non avrebbe assolutamente alcuna influenza rispetto al rischio di contagio. Però questa è la situazione. Uno scontro molto forte di cui si è fatto portavoce il governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga, che è il presidente dell'Assemblea delle regioni italiane, e il governatore Zaia che a più riprese è intervenuto per chiedere fortemente una modifica di questo decreto. Ci sono però contemporaneamente delle buone notizie per quanto riguarda l'evoluzione del contagio, perché sostanzialmente il Veneto, come molte altre regioni, 11 per la precisione, è di fatto a numeri da zona gialla, ormai conclamati. Quindi una situazione che sta rapidamente migliorando e che fa dire a molti che nel giro di 10-15 giorni si dovrebbe rivedere questo decreto di cui abbiamo appena parlato. Ci sono poi molte altre notizie sul Gazzettino di domani, ve ne cito solamente una che così ha colpito e sta facendo discutere, riguarda un'inchiesta della Guardia di Finanza di Padova, che ha scoperto un'ottantina di persone per settori di reddito di cittadinanza che non avevano assolutamente i requisiti, perché o erano persone che stavano scontando delle condanne, delle sentenze di condanna, quindi erano agli arresti domiciliari o comunque stavano scontando delle condanne, oppure erano addirittura in alcuni casi persone che non residevano neppure in Italia, cioè persone che erano stranieri, che passati per l'Italia, che avevano presentato domanda e poi erano tornati al loro paese, in un caso in Tunisia e in un altro caso per esempio addirittura in Colombia e che nonostante questo, pur non avendo appunto i requisiti, ricevevano il reddito di cittadinanza. Sono stati scoperti e adesso la finanza cercherà anche di riavere i soldi indebitamente ricevuti. Queste e altre notizie, ovviamente le troverete domani con il Gazzettino in Edicola, oppure per chi ha l'abbonamento digitale la possibilità di leggerlo già dopo la mezzanotte. Grazie, grazie Dario Gervasuti. Noi riprendiamo proprio dalla cronaca, spostandoci però a Verona, dove una studentessa ventenne ha accusato cinque calciatori di stupro. Secondo la versione fornita dalla ragazza, rappresentata dall'avvocato Federico Lugoboni, la violenza sarebbe avvenuta al termine di un gioco a carte alcolico. La studentessa conosceva solamente uno dei cinque perché studente universitario come lei. Sulla base degli accertamenti svolti dalla procura veronese, dopo essere stata tirata nell'abitazione di uno dei calciatori, la ventenne in stato di alterazione sarebbe stata abusata a turno dai cinque. Ieri, il 21 aprile, davanti al Gipsi è svolta la prima udienza a preliminare. Si proseguirà il 5 maggio con esami di alcuni video estratti dai cellulari di due giovani atleti. I calciatori però negano ogni accusa e spiegano che la ragazza sarebbe stata consenziente. Nella notte tra mercoledì e giovedì invece una neonata ha perso la vita all'ospedale San Valentino di Montebelluna ad annunciarlo l'azienda sanitaria numero 2, marca Trevigiane, in una nota ufficiale. La mamma della bimba, una trentenne del posto, era stata ricoverata per il parto. Alle 2.59 di notte ha dato alla luce la piccola che ha dovuto subito essere rianimata. A nulla però sono valsi purtroppo gli sforzi di tutti gli operatori sanitari presenti. Il decesso è stato dichiarato all'alba. Nella mattinata di oggi si è tenuto un incontro tra gli operatori coinvolti nel caso ed è stato programmato un audit presso la direzione sanitaria. Per quanto riguarda invece il territorio del veneziano, pedinato da tempo, uno spacciatore è stato arrestato dalla polizia locale di Mestre con un grosso quantitativo di droga. Si tratta di un 36enne residente a Marcon, già noto alle forze dell'ordine, e gli agenti hanno trovato all'interno della sua abitazione alcune dosi di cocaina che teneva nascoste in un calzino. A quel punto gli accertamenti sono proseguiti e si è trovato altro mezzo chilo di cocaina oltre 7.000 euro in contanti in banconote di vario taglio. Veniamo ora alla situazione per quanto riguarda il litorale veneziano in vista dell'estate e anche alla boccata di ossigeno che il Comune di Venezia ha deciso di stanziare in favore dei propri commercianti e degli esercenti per alleggerire i costi sui rifiuti. Oggi abbiamo lanciato questo bando per la Tari per il contributo alle attività economiche con partita IVA di 4 milioni e mezzo. Un impegno importante da parte dell'amministrazione che fa vedere come avere i conti in ordine col bilancio del Comune dà la possibilità poi anche di aiutare oltre a quello che abbiamo già fatto anche tutte quante le attività economiche sono trovate soprattutto nella città di Venezia in questa terribile pandemia ad avere dei fatturati ridotti. Abbiamo utilizzato il metodo della perdita di fatturato, non dei codici a teco, l'avevamo pensato addirittura prima del governo, questa del nuovo governo, abbiamo semplificato moltissimo le istanze che devono presentare le aziende, abbiamo avuto la collaborazione dell'ordine dei dottori commercialisti e faremo in modo che ci sia una compensazione tra quanto ancora dovuto e il contributo che poi l'amministrazione darà in modo tale che l'effettivo esborso da parte dell'attività economica contenga già il contributo che viene dato. Noi come amministrazione comunale, con altre iniziative che abbiamo già messo in campo in questo periodo di pandemia, questa vuole intervenire per fare in modo che nessuno rimanga indietro. Questa manovra di 4 milioni e mezzo messa a disposizione per le aziende va nel segno per aiutare in maniera proporzionale le attività che hanno subito più danni dalla pandemia. Quindi non questa distribuzione a pioggia, ma stabilendo delle fasce, l'intento è quello di dare respiro a tutte le nostre attività con intervento pubblico, con soldi dell'amministrazione comunale che con tanta fatica appunto sta tentando di aiutare le nostre attività. Vediamo anche le previsioni per quanto riguarda le prenotazioni sul fronte degli alberghi. Gli ultimi dati del sistema H-Benchmark dimostrano che ad oggi l'occupazione media nelle strutture alberghiere per il periodo da metà maggio a metà settembre è del 18%, conseguenza dell'incertezza dovuta dalla situazione sanitaria che sta fortemente condizionando anche l'avvio della stagione, con un mese di giugno che sta facendo emergere disdette con una conseguente occupazione media del 15%. Il mese di luglio si assesta al momento sul 23% di occupazione media negli hotel. Alberto Maschio, presidente di Associazione Iesolana Albergatori, ha commentato «Siamo convinti che il momento difficile che stiamo attraversando e l'evoluzione del fare turismo impongano analisi sull'economia reale nell'interesse della programmazione. Sono finiti i tempi delle azioni determinate dalle sensazioni». Rispetto alla rilevazione di 15 giorni fa c'è stata una inversione di tendenza sulla nazionalità dei turisti. Al primo posto ci sono gli italiani, seguiti poi dai turisti di Germania e Austria. Significativo anche il dato delle stelle. Gli hotel a 4 stelle e 4 stelle superior hanno una media del 25% di occupazione, praticamente il doppio dei 3 stelle, una testimonianza di quanto la qualità sia sempre più ricercata nel turismo. Tra le attività che potranno ripartire dal 26 aprile ci sono anche i cinema. E a Treviso c'è un cinema in particolare che ha deciso di dare la disponibilità ai nuclei familiari di affittare una sala e fruire dei contenuti anche propri in sala. Ne abbiamo parlato con il titolare del Cinema Italia Eden, Vittorio Polin. «Non è un periodo facile per il mondo del cinema. Se i nuovi titoli, seppur a ritmo ridotto, continuano a uscire a sale chiuse, è soprattutto in virtù di pubblicazione su piattaforme in abbonamento quali Netflix, Amazon Prime Video o altre analoghe. Una sala che si appresta a spegnere 100 cannelline nel 2022 è lo storico Cinema Italia Eden di Montebelluna, da sempre di proprietà della famiglia Polin. L'attuale titolare, Vittorio, ha avuto più volte modo di esprimersi dall'inizio della pandemia sul futuro delle sale. Gli spettacoli estivi all'aperto sono sempre stati una specialità della casa che intende proseguire, mentre sull'ipotesi driving ha sottolineato che sia innegabile il fascino dell'idea, ma anche che il cinema ha necessità tecniche e standard qualitativi ben precisi e che un film visto attraverso il parabrezza, con un alto parlante portatile bluetooth e a motore acceso per l'aria condizionata, difficilmente possa andare oltre all'essere una semplice curiosità. Abbiamo parlato della nuova idea del cinema del film portato da casa, quel titolare Vittorio Polin. Allora, in questi mesi di forzato riposo e chiusura abbiamo pensato che potevamo proporre a nuclei familiari, a quelli che vengono dettagli da famiglia, di poter vedere i propri contenuti video, ma non solo, ma anche utilizzare la sala per recite familiari o quel che si vuole e quindi che noi abbiamo potuto allocare la sala come la gente affitta un appartamento, una casa per le vacanze in una locazione breve e all'interno di questa nuova abitazione fa un po' quello che fa la casa propria. Quindi a questo punto anche in una sala cinema che è come dire, una struttura con degli elettrometrizi che sono molto speciali e molto particolari, quindi utilizzare le attrezzature che abbiamo e uno si porta il proprio PC, il proprio dongle, oppure il proprio supporto fisico che contiene i contenuti che vuole vedere e possa vivere come farebbe nel salotto di casa propria. Sempre sul fronte cultura a Belluno è previsto un grande ritorno, quello del pittore Tiziano, a cui la città dedicherà una preziosa mostra. Vediamo. C'è un grande appuntamento all'orizzonte a Belluno. L'anno si concluderà infatti con una grandissima mostra dedicata al pittore bellunese più famoso di tutti i tempi, Tiziano. L'evento coinciderà con l'inaugurazione di un elegante palazzo nel centro storico del capoluogo, Palazzo Bembo, destinato a diventare spazio per le mostre temporanee del capoluogo dolomitico. Ne parla l'assessore alla cultura del comune di Belluno, Marco Perale. Confidando in una veloce uscita dal Covid, Belluno si prepara proprio a riaccogliere e reinvitare il mondo del turismo culturale con una grande mostra che stiamo cercando di allestire, siamo a buon punto, praticamente da Natale di quest'anno fino alla Pasqua del 22, una mostra che si chiamerà Tiziano e i suoi, con 20 opere di Tiziano, quelle vere, molte di quelle importanti che tutti conoscono e che ci stanno arrivando da tutti i musei europei, quindi da San Pietroburgo, da Parigi, da Londra, da Vienna. In più un'altra sessantina di opere della sua cerchia, quindi i parenti, i cugini, i fratelli, e che insieme ci racconteranno tutta la bottega di Tiziano e Tiziano stesso nel momento del culmine della sua potenza, quando da Cadorino diventa un veneziano e da veneziano diventa cittadino del mondo. Quindi da Natale fino a Pasqua del 22, una grande mostra a Belluno, a Palazzo Bembo, che apriremo per l'occasione. Noi ci fermiamo qui, vi lasciamo come di consueto alle previsioni del tempo dedicate al Veneto, l'informazione tornerà domani alle 20.30. Buona serata. Amici di Unidense TV che ci seguite dal Veneto, ben trovati a un aggiornamento previsionale. Situazione per la giornata di venerdì, con l'alta pressione in rinforzo praticamente ovunque, una bella giornata, cieli sereni o poco nuvolosi. Abbiamo segnalato durante il pomeriggio qualche addensamento nuvoloso a ridosso delle zone prealpine, proprio alto piano di Asiago e Monti e Alessini, qualche sporadico piovasco, nulla di particolare. Maggiori aperture del cielo durante il pomeriggio in pianura padana, con temperature attorno ai 20-22 gradi, non di più. E difatti sarà un fine settimana di bel tempo, sabato e domenica, con temperature massime, domenica in ulteriore lieve aumento. Seguite però tutti gli aggiornamenti, scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web. Grazie. Grazie. Grazie.